Il Comune di Bardonecchia ha deciso di aderire ad avviso pubblico perché crediamo sia importante partecipare tutti alla maggiore cultura della legalità, è una rete tra comuni ed è una cosa assolutamente importante che di tanto ci si conosca tra di noi, si faccia gruppo e si dibattano e si approfondiscono temi così importanti per una crescita davvero delle istituzioni e delle comunità. Il significato è importante, intanto di partecipazione, di far parte di una giornata comunque importante, partecipata dall'istituzione, dalla popolazione, dalla gente ed evidentemente è una cosa che compete a tutti, il tema della mafia non è certamente localizzabile in alcuni territori ma è un argomento da affrontare tra tutti in maniera assolutamente coesa e seria.